Burloni, oggi su Minecraft torna una delle serie che amate di più sul mio canale, ovvero la gara di costruzione. Quest'oggi però andremo a fare due bunker segreti, basi segrete, chiamatele come volete, nel quale però avremo l'estrazione di un euro e un milione di euro. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi avrà uno shop, uno da un euro e uno da un milione di euro. E in uno di questi qua ci saranno meno basi segrete dell'altro, nel senso che avrei meno blocchi da utilizzare come basi segrete. Quindi andiamo con l'estrazione e speriamo che sia qualcosa di super mega bello. Allora io, a me va bene entrambi in realtà, a me non c'è differenza, va bene un euro, va bene un milione. Io voglio un euro oggi. Vuoi un euro oggi? Vuoi un euro. Va bene, va bene. Allora io ti direi che fra tre secondi faccio partire l'estrazione, guarda che magia. Uno, due, tre. No, è partita il due, cattiva questa, vediamo cosa ci esce. Un milione, un milione, va bene, va bene, va bene. Allora Nico, appena andiamo nello shop, partirà il timer. Tu potrai stare un sacco di... Quando arrivo io. Potrai stare anche tutto il tempo possibile nello shop, ma sappi che ci saranno 18 minuti totali. 3, 2, 1, vado nello shop. Allora intanto ci do... Quindi la mia costruzione può essere anche lo shop. Che bello, ma ci sono dei sapling pure stavolta. Sì, ho visto, anche da me. Ok, interessante questa cosa. Io intanto mi prendo tutta sta roba qua, infatti, che mi sembra ok. Ok, ok, no, in realtà molto bene questa cosa, perché i sapling l'altra volta mancavano. E mi metto già giù delle altre shulker. Cosa stavi dicendo? Scusami, io non ti stavo ascoltando. No, devi usare lo shop come build, si può fare. Non puoi buildarlo nello shop, ma in realtà puoi farlo volendo. Posso? Sì, però dai, direi che non è il caso, direi. Ma tu sai che non lo troveresti mai? Non lo troverai mai, effettivamente. Non sarebbe proprio modo di trovare. Allora, io ti dico subito una bellissima cosa. Io ho comprato tutte le porte segrete e sono parecchie. Però il bunker segreto non so come farlo. Penso che lo farò di... Di che cosa lo faccio? Lo faccio di stripped, warped stem. Però non ci sono delle stone. Allora, come stone? Che cosa posso utilizzare? Ah, ci sono questi blocchi qua, che sembrano carini. Sono dei blocchi strani. Sono dei blocchi, sì, io ne prendo un po', ma non sono sicuro se li voglio utilizzare. Quindi mi sa che andrò a utilizzare semplicemente il purpur. Bello il purpur, eh? Il purpur è tanta roba, eh? Il purpur è tanta roba. E hai bisogno di... Di cobre se non possiamo fare uno scambio? No, zio, non si può fare di scambio. Tu le robe povere, scusami. Eh, vabbè, ho capito. I poveri non possono scambiare le cose. No, perché le mie cose sono ricche. Quest'era un milione. Dovresti darmi un milione di euro per darmi la mia roba. Beh, un po' di carità, dai. No, 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 no. Assolutamente no. Io non faccio queste cose, Nico. Cioè, se il gioco dice così, deve essere così. Quindi, per favore, eh? Basta. Eh, è una proposta. Fai quello che ti pare. Stai cercando di turlupinarmi in questo momento. Non so neanche cosa voglio dirla. Lascia mi stare. Turlupinar... Allora, Alexa, imposta il tuo volume al massimo. Vado a costruire. Alexa, cosa vuol dire turlupinare? Turlupinare è una parola che significa ingannare qualcuno raggirabile, sfruttando la sua ingenuità. E tu mi stavi... Hai capito? Stavi sfruttando la mia ingenuità in questo momento da ricco perché volevi prendermi le cose. Sei una persona cattiva e questa cosa... Ti lasciate un regaleno, sì, sì. Cosa mi lasciare? Basta lasciarmi le... Basta te, allora... No, perché sono povero. No, non vuol dire... Non ho detto... Nico, non mi mette le parole in bocca che non sono vere, eh? Che poi la gente dice, ah, ma Marce ha detto che perché è povero... No, no, non ho mai detto una roba del genere. Ragazzi, è unico che mi mette in bocca cose che non sono vere. Nico, basta, per favore. Non ho fatto nulla. Io veramente non ti capisco a volte, davvero. Non riesco a capire. Sto per costruire il tuo punk, ma non siamo in stanza mutati oggi. Ma non siamo in stanza mutati oggi. No, stavo schiacciando. Sto scherzando. No, no, infatti dobbiamo mutarci, effettivamente. Dai, no, non lo voglio. Hai ragione, mi ero dimenticato che dovevamo mutarci. Ti ringrazio per avermi detto questa cosa. Ho preso un po'. Ma oggi non si fa. Non si fa questa cosa, vabbè, vabbè, oggi rimaniamo. 15 minuti precisi e Marce si prende le sue cose e se ne torna. Eh, che cavolo. Eh, no, è che... Io quasi quasi le cose le lascerei anche qua. Faccio prima perché poi... No, niente. Lascia perdere. Allora, io penso che inizierò facendo una bellissima cosa. Il paesaggio. Il paesaggio se ne hai visto. Cosa mi ha lasciato? Ma non li vo. Ma ti rendi... Ma ti rendi conto di cosa stai facendo? Non va bene. Ma ti ho lasciato dei soldi. Ma non va bene questa cosa. Non si fa. Ma non si fanno queste cose. Sono cattive. Ma perché sono cattive? Sono davvero cattive. Io da partito non me lo aspettavo, Nico. Ma ti ho dato dei soldi. Mi stai raggirando, mi stai. Ma smettila. Ho pure detto tu. Mi stai raggirando. Allora, io vado giù a fare il mio bunkerino, eh. Cerchiamo di capire come farlo. Ok, lo faccio da questa parte qui. Faccio un bel posizione 1 a meno... A 32 di altezza. Quindi vado verso di qui. Non voglio che sia troppo grande in realtà il mio bunker. Perché sennò poi diventa esagerato. Vorrei fare una domanda. Dimmi. Ma perché la stone, quando la spacchi, diventa cobblestone? Ma le stone stair non diventano cobblestone stair? Sai che questa cosa è una bellissima domanda? Hai fatto... Poi ho fatto teoria. No, hai fatto una domanda interessante, al quale io non so rispondere. Eh, ma allora non va bene. Teoria nei commenti? Scrivete nei commenti, ragazzi. Secondo voi perché se spaccate le scale di stone non vi danno le scale di... Ma questa cosa è interessantissima, porca miseria. Bisogna fare un mod per sistemare queste cose. No, no. Mi sembra veramente, veramente troppo. Io ti dico subito che mi è venuta in mente una cosa interessante. E penso che possa piacerti. Dopo te la insegno. Praticamente ho scoperto, sai che con World Day tu puoi piazzare i blocchi, no? E fin qua ci siamo. Ma non sai che è un'altra cosa. Tu puoi piazzare i blocchi nelle posizioni in cui tu vuoi. Cioè, che guardano il verso che dici di tu. E fin qui. Ed è una cosa devastante questa. È devastante come cosa. Quindi sto riuscendo a fare una cosa molto positiva che poi capirai. E direi, no Marce, ma tu sei un fenomeno. Vabbè, ma tanto questo lo sai già, quindi ti ringrazio di pensarlo. Allora, secondo te come dovrei fare i pavimenti? Ma che ne so, non so manco che blocchi qua. I pavimenti, i pavimenti faccio, non so, di pillar, di pillar purpur. Allora, walls. I pillar sono per i pillar, non sono per i pavimenti. Signore, capito? Signore. Bello! Però magari se ci metto anche gli altri assieme, i purpur pillar e i purpur block. Zio, qua ci sto sgravando, eh. No, 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 no. No, qua siamo proprio... No, 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 no. Qua stiamo sgravando, eh. È che tu non lo sai. Ma io sto sgravando, guai. Piacere per lei. Allora, set and... Vediamo un po' come sta. È che secondo me questo blog qui è particolare. Vediamo. È un po'... Puzza un pochettino, ragazzi. Però vabbè, va bene. Gliosa? Di culo. Cubo? No, no, ho detto di culo. Ah. Ho detto proprio di culo. Allora, 1, 2, 3... Quelli che non si lavano... Quelli che non si lavano, tipo loco. Allora, 2, 3 e 4. Allora, devo fare il pil... Cosa faccio? Faccio la cucina. Inizio dalla cucina, perché la cucina è bella. La cucina è bella. E metto quattro frigoriferi qua dentro. Non mi chiede... Eh, vabbè, ok che sei ricco, però adesso... Allora, metto un frigorifero... Io riuscirò neanche i frigoriferi. Metto un frigorifero bianco e uno rosso, va bene? Dai. Eh sì, eccetera. Io non ne ho. Non metterli neanche tu, per la solidarietà. Ma non esiste sta... Ma non ho... Ma allora, dico, ma per chi mi hai preso? Per la Banca d'Italia? Ma non ti ho chiesto di darmi dei frigoriferi. Ah, stavo... Mi sono chiesto di rommetterli. Ah, ma io li metto lo stesso perché non mi interessa. Io non ho intenzione di ascoltarti. Vabbè, mi stai ridendo in faccia, assurdo. Sì, pure quello sto facendo, incredibile. Mi stai ridendo in faccia soltanto perché io non ho il purpur. Il purpur, è vero. No, è vero, cioè, stai dicendo la correttezza delle cose. Credibile. Sembra bello da fare. La correttezza delle cose, stai dicendo. Me lo dà questo che si rompa a mano? Sì, grazie. Oh, è carino, però non abbiamo la televisione. Cioè, ti rendi conto, senza televisione stiamo. Io non ho un elettrodomestico, considera. Eh beh, è giusto. All'età della pietra non è che avevamo gli elettrodomestici, c'è. Ma perché all'età della pietra? Ma perché, non lo so, ma non lo so, ma cerchiamo di guardarle cose. Stai già nella mia costruzione? No, non ho guardato niente, perché? Vabbè, ragazzi, stai facendomi spia, ragazzi. No, ti giuro. Perché stai dicendo sta roba? Perché stai facendo delle grotte tipo dei Flintstones. Vabbè, mi sta copiando, mi sta spiando. No, te lo giuro, l'editor ti potrà dire che non sto facendo quello che dici tu, credimi. L'editor, scrivilo in sovraimpressione, per favore. Io vorrei metterci, però... Ma tipo qualche animale tipo i leoni ci sono? Ma non ho capito, Nico. Ma tu esattamente, no? Che cosa stai facendo? Posso saperlo? Un leone secondo te c'è o no? Non c'è un leone, Nico, non c'è. Uffa. Tu sarò un gatto. È diventata Royal la mia... Tipo Fortnite, Battle? Sì, non sto capendo perché è venuta una roba del genere, però a noi va bene. Comunque il mio bunker segreto è tipo un bar. È un bar... No, zio, un bar segreto il mio! Fatto. Cioè, ho veramente svoltato tutto il video. Ma che... Ho svoltato il video, Nico. Ho svoltato il video. Sono sprovveduto di blocchi che mi servono. È un problema questo, eh. In che senso? Eh, che volevo delle... Posso usare un common block? Non credo. Non posso fare niente oggi. Ma non ho capito. Ma se non c'è il common block, perché devi utilizzarlo? Ma scusami. Non è un blocco ricco, il common block. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire, Nico? Ecco, cosa vuol dire? Io voglio un common block. E uso questo common block. Sì, ho un common block. Se no piange, poi... Almeno della redstone. No, basta, basta. Ma sì, allora, ho una secret iron door. Come l'apro, l'iron door? Ti ho dato la secret lever? Sì, ho capito. Ma devo metterla vicino. Eh, devi metterla vicino, certo. Ma come la nasconda? Scusami. Ma sono cavoli miei. Non mi sembra. Ma perché tra una cosa e l'altra so sempre quello che non... Va bene, non importa. No, dimmi. No, no, insomma. Mi hai crashato il gioco. Sta laggando tutto, Marci. Cosa hai fatto? Non ho fatto niente. Sono fermo che ti ascolto. Cavolo. Hai fatto qualcosa che non... Devo fare il bunker. Ma non hai ancora fatto il... Tu non stai bene comunque. Cioè... Ma... Che... Che... Allora, basta. Dove lo fate? Ho perso il bunker, ragazzi. Ho perso il bunker, zio. Eh, con degli ansi. Ma dov'è? Aspetta. Ma sì, ma ogni volta che... Mi sta spammando in chat invalid value. Cosa sta succedendo? Ah, l'open GL error ti dà. Sì, ma lagga tutto. Ma non è... Ma lagga solo a te, lagga. Ma sarà GL che mi fa laggare. Ma comunque tu stai male. Cioè, devi farti vedere, Nico, veramente. Ok, è giusto. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ok. Difficoltà molto esagerata in questa sfida. Dove lo devo dire, eh. Perché? Ma non lo so. Mi sento carente di... Mi sta laggando. Ma, Nico, ma stai tranquillo. Ma stai... Devi stare più tranquillo. Ti sei... Ti sa scoprire che mi stai facendo laggare. Guarda. Allora, ragazzo, Sara, per favore. Per favore. Dai, dili la verità. Perché... Capito. Ma no, guarda, ragazzi, però oggi oggi è una giornata complicata. No, non è complicata sta giornata. No, è complicata. È normale. Sto scavando un bunker con un piccolo innederite. Però sono povero. Ma puoi usare la... Ma perché devi scavarlo? Ma c'hai World Edit! Ma devo comunque arrivare dall'altro lato. E... Ma faccia prendere gli angolini. Poi volare, Nico. Vai in alto. E cosa cambia? Torni su e scavi dall'altra parte l'angolo da... Ma sopra c'è la costruzione. No, vabbè. Comunque è impazzito oggi, Marsha. Io sono impazzito. È completamente impazzito. Io sono senza parole. È crashato. Ecco. Vedi, io sono l'unico dentro. Io sono l'unico dentro. Questo vuol dire che l'angolo stai facendo tu. Ho messo un ghost block, ragazzi. È crashato tu e il ragazzo server. Voi mi state facendo qualche vagheggio. Io lo sapevo. Mi ho sgamati. Basta, ditelo. E continuo pure a buildare. Non mi fermo, io te lo dico, eh. No, sei cattivo, eh. Sì, perché sono povero. E quindi devo sfruttare il tempo. Visual enico. Visual enico, per favore, grazie. Nel frattempo che si apre il gioco, eh. Io sono sicuro che adesso non potrò più rientrare. Ma proprio, ma proprio, guarda. Ho proprio il... Fare quella conferma che hai fatto qualcosa che non dovevi fare. Che mi hai fatto laggare tu. Allora, ragazzi. Questa è la mia da zona, nel caso non l'aveste già vista. Perché ora il grandissimo amico che hai dei video li metterà la mia. Ti piace, a me piace tanto. Vabbè, a me fa. Vabbè, a me piace. Adesso devo vedere anche l'altro, tanto il video finisce con la mia visuale e basta. One eternity later. Abbiamo un problema. Qual è il tuo problema? Non sta partendo, è in freezing data. Ma ora perché... Allora, attenzione. Attenzione. Ma da marci ai multiplayer ha cliccato ed è in encrypting. È in encrypting. È un buon segno. Joining world. Un buon segno, un buon segno. Attenzione, ragazzi. Ma da marci è dentro. Ora però farò una cosa in creativa. Perché ho paura che sia proprio sta roba qua che ha fatto laggare tutto prima. Quindi mi... È crashato di nuovo? Sì, è crashato di nuovo. Vabbè, insomma, ragazzi. Devo dirvela tutta. Poteva andare meglio. Ma poteva sicuramente andare anche peggio. Ragazzi, sono tornato. Allora, con calma. Ora devo semplicemente fare tutta la... Tutto. Devo fare tutto. Devo fare. Allora, però facciamo una cosa. Howard Edit. Posso fare lo Slash Flora? Che si può fare. Lo Slash Flora si può fare. Anche Slash 3 si può fare, giusto? Eh, ma tu non hai in realtà i fiori lini da piazzare? A me non mi interessa. Eh, va bene. Lo puoi fare anche te. Ok. Slash Slash Flora. Ti faccio il set di Diamond Blocks. Allora, quello mi sembra un po'... Cioè, vabbè, fai quello che vuoi. Sì! Non vedevo l'ora che lo dicesse. Non so più cosa dire, guarda. Sono un fenomeno. Ho fatto una foresta che guarda veramente uno spettacolo. Uno spettacolo. Però è molto basic la mia roba, eh. Cioè, io mi aspettavo di fare una stanza segreta clamorosa. E invece... E invece no. Anche il mio fa un po' defecare, se devo essere onesto con te. La mia, secondo me, è semplicemente facile da trovare. A mio avviso... Va bene. Non è un problema. Abbiamo solo un minuto, Nico, comunque, in tutto ciò, eh. Ma io sto facendo cose che non so neanche io cosa sto facendo. Io ho un'idea, ragazzi. Mi è venuta un'idea. Cioè, io ho proprio un'idea. Lo sai? Eh, so. A parte che ho perso le mie... Ma dov'è la mia... Volete un extra? No, no, no. Non vogliamo extra. No, gli extra non ce li vogliamo. Non ce li vogliamo. Oddio, è nato. È nato, è nato. È nato, eh. Che veramente, guarda, è una situazione impressionante. Eh, ho bisogno di qualche momento in più, forse, io sai. No, è finito. Eh, non ho nascosto il diamante, allora c'è quello che vuoi. Nascondi nel volo, ok? Hai dieci secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque. No, 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 c'è chi fa una cesta. Chi fa una cesta. Ma porra, io me la sono craftata. Ma io tanto... Vabbè, dai, anche io. Oddio, l'ho sputata. No, no, io veramente... Io non... Sto ragazzo non lo sopporto. Ma non è colpa mia. Sei tu che sei crashato. Io ho detto, vabbè, ho tempo, poi sei tornato e ho detto, oddio, non ho tempo. Ok, tre... Sto piazzando la cesta! Due! Zero, viricola nove! Ah, trattati avanti. Sette! Zero! Non venire che ti squalire tutti, eh. Squalire tutto, poi non è divertente. Zio, sto arrivando, eh. Zio, sto arrivando, eh. C'ho la faccia di un Revenger morto con un cappello da Merlino sopra. Ecco, vieni pure, vieni pure. Ma la tua è molto più male della mia. Cento su cento. Non c'è nulla. I poveri vincono sempre su tutti, credito. No, è importante non essere ricco. Eh, ti piace la mia... Sì, molto carina. Oh, il mio accampamento. Si, però chiudi quello che apri, gentilmente, che sono dei letti questi. Ma devo provarti le torce? Amico, tu mi hai dato soltanto le torce leva, io le ho usate come potevo. No, quelle sono torce normali, servivano solo per fare un po' di ambient. Io ho come... Ma che è sta roba, bella? Non so, mi piaceva. Però ci stanno delle monetine a terra, perché vedi, comunque anche i poveri condividono. No, è il mio albero! Eh, devo cercare... Aspettila, non funziona così. Ma sei incredibile, zio, non si fa. Ti stia osservando, mi sono messo adesso. No, la mia domanda è, le torce servono a qualcosa? No, sono solo decorazioni. E io la porta come la apro, scusami? Ma tu hai aperto tutto, tranne quello che dovevi aprire, sei assurdo. Di qua era? Ma tu non avevi i ghost block, mi sa. Sì, che ce li avevo. Ah, quindi è dietro una di queste qua? Puoi non chiuderle, che almeno non mi ricordo quelle scole sono andato? Ma l'estetica è importante. Ma porca paletta. Posso chiuderle queste, le hai controllate bene? Le ho controllate tutte, non c'è niente. Non hai controllato tutto. Dai, ti lascio aperte solo quelle che devi controllare, su, perché sono gentile. Ma. Oddio! Cassa! E qua però bisogna far luce un po'. Ua, Lady Gaga. Uga, Uga Gaga, Lady Gaga. Ah, e quindi non è qua dentro, immagino. Non è qua dentro, immagino. Magari le torce possono fare qualcosa. No, non è vero. No, non vale così, scusa, eh. Mi ha crashato Minecraft. Ah, 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 Ah! Oh, Eri tu che facevi crashare. Allora, Claud! Ma non è vero! Io non sono mai crashato. Ma erano le torce davvero che servivano? È impossibile, le torce non sono collegate a niente. Dai, me lo... Se non posso me neanche aiutare. No, adesso entri. Entri, ora! Ora entri! E vieni a darmi una mano! Qualcosa in quella stanza, dai, muoviti. Eh, fino a lì l'ho capito che c'è qualcosa nella stanza. Oltre alle torce Ma che cosa vuol dire? C'è qualcosa in quella stanza, oltre alle torce Sono sti cosi qua Non puoi sfondare tutto, devi togliere tutte le cose che puoi spaccare Devo spaccarle? Non devi spaccare nulla E io ho un po' di magheggi Ho piazzato un ghost block per sbaglio Allora, questi coin qua non sono Non sono i coin, zio No, non sono i coin Allora, sei in quella stanza È un 5 per... E te, non è complicato trovare quello che serve A parte che queste torce non le hai usate? Non le provi? Le ho provate tutte Ma non le puoi chiaccare più Ma me l'hai detto Ma vuoi togliere Optifine o cosa? Vuoi togliere Optifine o cosa? Sto registrando questo video da un'ora, ragazzi In quella stanza, oltre alle torce, c'è qualcos'altro Qualche ghost block, dai, qualche ghost block, ok? C'è qualche ghost block Non si riesce a entrare Ma non devi provare nulla Non ho le porte, non me le hai date Ma non c'è niente Ma devo spaccare le torce? No! Ma non prenderle più, fermati Non servono a nulla Ma i ghost block, ragazzi, non ci sono Vadovi, adesso entro Ci passo e tu dirai Ueveo Cioè, entro, un attimo Sto aprendo mic Ah, io sto spaccando tutto piano piano Per vedere dov'è Ma perché devi sfondare tutto? Perché il ghost block si spacca più in fretta Allora, fermati Guardami Ora ho fatto una cosa un po' cattivella Però non pensavo così tanto cattivella Guardami Eccomi, joining world Buonasera a tutti Allora guarda qui oppela era difficile. Sì C'è pure l'albero Scusa 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 Ho sbagliato sbagliato Ma dove devo andare Io sono confuso Ma non posso entrare entro l'albero e no attorna l'albero della vita ma dov'è la cesta è in sostanza ma invisibile Non ho cesti invisibili purtroppo Maggi non mi devi sfondare l'albero della vita vieni qui basta guarda ti aiuto io qua dritto dritto qua continua sempre dritto No quello di Qui dritto continua dritto. Ah no di farà il giro d'altra parte scusami lo sapevo io qua Eccolo qua l'ho trovata Non si può aprire come si può aprire non si può aprire ma è qui la cesta Ma perché non si può aprire ma perché le mero Vieni a cercare la mia va che è meglio Eh vieni a carina però Ma vai a quel paese va Sento che non sei in grado di Vieni vieni qua va vieni qua vai Eccomi qua Sì vabbè ma che è successo quindi Ma che è successo a chi non vale fare così scusa hai messo Io non ce la posso fare comunque Questo albero è piccolo No C'è solo un qualcosa di diverso da questi alberi Cosa vuol dire? Eh guarda bene È una crafting table lì Ma ce ne si rende conto subito Ho una crafting table No no ti vuol dire Cosa ti vuol rendermi conto? Guarda dall'alto e dici c'è qualcosa che non Soltano qua dei problemi Ecco Eccoci qua Ma non si passa qui Ah non si ok È molto bello Molto bello sì ho redatto bene I ball Eh non avevo il piccone per toglierli quelli L'ho perso Mi fa che ero anche a mano comunque Vabbè E E non si costituisce da qualche parte Se vuoi fammi una domanda È la domanda quella C'è un ghost block qualcosa che devo attraversare È una domanda Era la domanda quella È qua dentro No ti ho chiesto se c'è un ghost block o qualcosa che attraversa E mo? E mo niente Vabbè E che cosa Allora Fammi una domanda specifica e io ti rispondo Ma che ne so che blocchi avevi tu? Fammi una domanda specifica Prima mi hai fatto una domanda È qua dentro È qua dentro? No Ok Mi puoi dire i blocchi segreti che avevi? Io È dietro una trapdoor Io non ne posso più esistere che trapdoor te lo giuro Spero che la mod fallisca Ma non è qua dentro Ma allora dov'è? Non è in questo bunker segreto Questo hai fatto solo di faccia No dai Non hai fatto una trapdoor a casa Non c'ho poi di trovarla Te lo dico eh È facile dai È facile È facile perché l'hai lasciata aperta No non è Questo è quello che ho utilizzato per fare il Allora Dai Marcino Non vuoi ricliccare tutta la grassa Dimmi che non è qua Allora Fammi una domanda Non devo cliccare la grassa vero? Sì devi cliccare la grassa No dai Marcino Io ho bisogno di una pausa One eternity later Oh eccola qua Fammi ma cos'è? Guarda Fai Undo Perché non ho avuto più tempo di Ma cosa vuol dire? Nascondere Io non parlo Vabbè ragazzi Ho vinto Ma va Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti